Buonasera a tutte ragazze, eccomi qui con un altro progetto che ho postato stamattina su Facebook e sono gli orecchini holly che adesso vi farò vedere e sono questi. Che ve ne pare? Colori bellissimi, mi piacciono. Questo opaco con il lucicoso diciamo così, questo lucente male non sta. E niente, come al solito, è un incastonatore in 3D, incastonatura in 3D, è semplice da fare e anche veloce. Adesso vi elenco il materiale occorrente e quindi il materiale è questo. Faremo innanzitutto faremo questa versione, anche questa molto bella di colore. Beh sì, non è male anche in camera, non sembra, perché il colore cambia un po' in camera, comunque è bellino. Allora, ci vogliono. Ho mandato tutto in aria, le 11.0. Allora, intanto tre tipi di Miyuki, 15, 11 e 11 di due colori, poi dei biconi da 3 mm, delle gemme duo, delle super duo in due colori, un perno e un rivoli dello stesso colore, in questo caso poi, adesso ve lo faccio vedere se siete interessati a questo colore, è il 14 mm ed è il colore, dovrebbe essere questo. Questo qui è lo stesso colore del rivoli. E poi se volete vedere il colore delle altre perline, per quanto riguarda le super 2 chiare, è questo colore qui. Invece quelle scure, sempre opache, almeno io sto usando questo, ma poi voi potete usare quello che volete. Queste sono l'altro tipo di super duo, e le gemme duo uguali alle super duo. Eccole qui. E i biconi non ho il numero purtroppo, le lele al colore. Invece per quanto riguarda le 11.0 colorate, sto usando questo. E poi queste sono le galvaniz gold, credo. allora poi un ago io uso il solito da 10 e il filo farline da 0 15 allora dobbiamo fare un'infilata di lo faccio insieme a voi così vediamo scusate ho dato una botta al telefono allora dobbiamo mettere sul lago una 11 oro diciamo gold una 11 blu è un'altra 11 chiara poi un bicono da 3 un'altra 11 blu no ho sbagliato un'altra 11 gold 11 blu e 11 gold e poi una gem 2 questa è l'infilata che dobbiamo fare per quattro volte eccola qui quindi facciamo questo e ci vediamo dopo allora ragazze mi sono sbagliata come al solito vi faccio sempre qualche danno allora l'infilata è questa non due due undici dorate ma soltanto una e una e più un bicono una blu una dorata e un una gem 2 quindi per quattro volte questa questa sequenza ora chiudiamo a cerchio ovviamente e ci vediamo dopo ecco a giro finito cioè a giro chiuso a cerchio e fatto qualche nodino allora sto uscendo dalla gem 2 e metto sul lago 3 11 0 dorate una blu e 3 dorate e uscendo dalla gem rientriamo direttamente nella gemme subito dopo in questo modo e dobbiamo farlo per altre tre volte ecco qui allora adesso finito il giro mi porta ad uscire dalla 11 0 centrale è facilmente visibile perché blu mettiamo sul lago o blu rossa insomma come la volete fare voi due 11 0 dorate una blu e due dorate e dobbiamo uscendo da questa da questa centrale blu rientriamo in quella blu dell'arco successivo così e dobbiamo fare questa sequenza per altre tre volte ecco allora a questo punto prendiamo i rivoli lo mettiamo a testa in giù e lo mettiamo all'interno e ora cominciamo a tirare aspettate che io con la telecamera non vedo ecco eccolo qui tiriamo bene ora dobbiamo ripassare e entrare in queste prime tre dobbiamo sempre uscire da questa blu quindi tiriamo bene e mettiamo sull'ago una 11 0 dorata una 11 0 blu e una 11 0 dorata così e rientriamo in quella blu dell'archetto successivo questo adesso si è lento un pochino perché comunque dobbiamo tirare allora ragazzi dobbiamo mettere queste tre per altre tre volte tiriamo bene ecco qui ragazza adesso non ci resta che fare un paio di giri di rinforzo solo nelle tre che abbiamo messo quest'altra blu che è quella del primo archetto anzi del secondo la dobbiamo lasciare quindi dobbiamo prendere le tre solo quelle così si stringe bene eccoci qui allora adesso sto uscendo da questa dorata vedete qui e risalgo in tutte queste 11 questa blu non li ho presa tutte però e prendiamo anche questa e ci denti ok e dobbiamo poi entrare anche nella gem 2 nella scusate nella gem 2 e nelle 2 11 così e anche nel bicono non è facile come dico sempre con la telecamera è un altro discorso proprio ora mettiamo sul lago una 11 dorata una 11 blu e due 11 dorate così e rientriamo nel foro alto della gem 2 aspettate che ho fatto un cappietto ecco qui così adesso due 11 0 dorate una 11 0 blu e una 11 0 dorata fare il contrario e rientriamo solo nel bicono ok e dobbiamo farlo per tutto il giro allora adesso sto scendo dal bicono rientriamo in tutte e quattro e le 11 0 che ci troviamo di fronte così e mettiamo sul lago una 11 e un bicono da 3 e un'altra 11 così e rientriamo nelle due oro e nella blu così e mettiamo sul lago 3 super duo in questo caso queste più chiare e rientro nella blu e nelle altre due d'oro diciamo così ora di nuovo una 11 dorata un bicono e un'altra 11 dorata e rientriamo sempre nelle due oro e nella blu e dobbiamo fare così per tutto il giro eccoci qui allora adesso sto scendo dalla 11 vicino al bicono perché non metti a fuoco e mettiamo sul lago 2 11 dorate e rientriamo nel foro alto della super duo un bicono dell'altro colore scusate un super duo dell'altro colore un'altra super duo tiriamo di nuovo 2 11 0 dorate mi inserisco nella 11 0 quella sempre a fianco al bicono e rientro ancora dopo il bicono nella prima e di nuovo 2 11 0 e rientriamo nel foro alto della super duo ecco qui dobbiamo fare così per tutto il giro eccoci qui allora adesso io sto uscendo dalla 11 0 vicino alla super duo e mettiamo sul lago 4 15 0 e 4 e rientriamo la 11 0 quella sotto la super duo e dopo quella blu vedete e tiriamo ok ora mettiamo una 15 una 11 blu e una 15 così e rientriamo in quella non l'ho presa scusate nella 11 torata sotto le super 2 e tiriamo ora di nuovo 4 15 0 e rientro in queste bene vado a vedere il lavoro ecco perché altrimenti non riesco con la telecamera ora dobbiamo ripassare in tutte le perline le 11 e il bicono tiriamo bene il lavoro così questa decorazione qui bisogna fare ora ripassiamo nelle 3 ho le 11 lunghe ragazze nelle 3 qui e dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto qui quindi 4 15 entriamo in questa poi una 15 una 11 blu e una 15 rientriamo in questa poi altre 4 entriamo in tutte e ripetiamo la stessa cosa da quest'altro lato quindi dobbiamo farlo per altre 3 volte eccoci qui allora adesso sto uscendo finito il giro sto uscendo da questa super duo vedete dal foro alto della super duo chiara e metto sull'ago una 11 dorata una 11 blu e una 11 dorata e rientro nella super duo nel foro alto sistemate bene una super duo del secondo colore e mi inserisco nella super duo subito dopo così riprendo di nuovo una 11 dorata una 11 blu e una 11 dorata e mi inserisco nella super duo quella chiara sotto e tiro così adesso ripassiamo in queste e dobbiamo fare la stessa cosa qui quindi questa solo di sequenza dobbiamo fare eccomi qui allora adesso finito il giro mi porto ad uscire dalla super duo questa qui vedete e salgo sul foro alto della super duo del centro e adesso mettiamo sull'ago 2 11 0 dorate 2 11 0 blu e 2 11 0 dorate questo è il cappietto praticamente l'orecchino è terminato ora uscendo dove sta il filo uscendo da da questo foro mi inserisco dalla parte opposta adesso ripassiamo su tutto il cappietto che abbiamo fatto e poi praticamente mi faccio un giro intorno alle perline per fare dei nodini e chiudere il lavoro mamma mia non riesco con la telecamera come avere una lente strana sta cosa però non riesco ora rientro qui ok tiriamo e scendo nell'altra super duo sotto nelle 3 11 0 a fianco e così via adesso anche in questa che non riesco a prenderla va bene quindi ragazze adesso io non faccio altro che fare dei nodini e chiudere il lavoro metto il perno e ci vediamo ad orecchino finito eccoci qui ragazze con orecchini finiti sono gli orecchini holly forse non l'ho detto all'inizio holly che poi una signora una ragazza mi ha suggerito che questi sembravano colori dell'autunno poteva benissimo cambiare anche il nome cioè potevo benissimo cambiare il nome però ho dato holly così il primo nome che mi è venuto tranquillamente comunque questa è l'altra versione come vedete sono compattissimi molto molto carini dai sono bellissimi anzi allora ragazze è anche veloce a fare avete visto insomma a me mi da 18 minuti ma neanche 18 minuti ma con le pause quindi è un pochino di più però insomma si fa veramente veloce è super super facilissimo quindi ragazze questi sono gli orecchini holly se volete cliccate sulla campanellina così vi arrivano le notifiche dei video che farò e se volete registrarvi come dico sempre mi fa piacere e vorrei vedere anche le vostre versioni se vi piace questo progettino insomma per ora vi do un forte abbraccio a tutti e vi do appuntamento alla prossima ciao ciao